C'è grande preoccupazione nei palazzi della giunta regionale tra i dipendenti, che non hanno ancora certezze sul fondo per pagare i loro premi di produzione. Nonostante la regione proceda invece nel pagamento della ritribuzione individuale di anzianità, la RIA. Sono previsti infatti altri 3 milioni e mezzo di euro per la RIA, con tranche da oltre 100 mila euro l'una, sebbene una sentenza della Corte Costituzionale abbia ritenuto che questa sorta di regalia non aveva ragione di esistere, tant'è che sul provvedimento c'è anche in corso un'inchiesta della Procura. Intanto è saltata anche la riunione per far chiarezza sul fondo da cui attingere per pagare il salario accessorio. C'è agitazione tra i sindacati che temono tagli anche ai premi di produzione. L'ipotesi è fondata in tempi di bilanci di previsione da vacche magre. La UIL, funzione pubblica, unico sindacato che sulla vicenda sta dando battaglia, urla allo scandalo ed è in procinto di denunciare tutto alla Corte dei Conti. Come se non bastasse è arrivata, come una doccia fredda, la sentenza del giudice del lavoro Maria Rosaria Pietropaolo del Tribunale di Teramo, che ha condannato la regione Abruzzo per comportamento antisindacale. Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha infatti messo in esubero una settantina di dipendenti e ha proceduto al trasferimento da una sede all'altra di un'altra trentina di dipendenti, senza però consultare le organizzazioni e le rappresentanze sindacali, come impone invece la legge. Il giudice ha ora disposto che la regione faccia marcia indietro. Insomma, tutti dovranno tornare al loro posto e molti dei dipendenti già si sono rivolti agli avvocati per ottenere un congruo risarcimento.